Maria è stata cantata da testi straordinari della storia della Chiesa. Il canto che adesso ascolterete, le parole di questo canto, io le ho tratte da alcune espressioni dell'inno Akatestos, questo inno bizantino, antico ma straordinario, bellissimo, che canta l'Annunciazione di fatto, ma la canta questo mistero dell'Incarnazione, vedendo in Maria con lei che di volta in volta ha riassunto la storia della salvezza. Allora, ora ascolterete questo canto, Salve Maria, che proprio è ispirato ad alcune di queste espressioni bellissime dell'inno bizantino. Salve Maria 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.